L'infrastruttura su cui sono ospitati i piani cloud hosting Aruba Business è ottimizzata per i principali CMS come WordPress e Joomla. Su tutti i pacchetti cloud hosting Plesk e C-Panel è presente Softaculous, uno dei più famosi e performanti auto-installer presenti sul mercato. Dal pannello di controllo, in questo caso Plesk, sarà sufficiente cliccare sull'icona Softaculous e decidere quale CMS installare. Con Softaculous puoi installare con un singolo clic più di 400 CMS, gestirne temi e plug-in, tenere aggiornato il tuo CMS, scegliendo se fare aggiornamenti manuali o automatici, gestire un'area di staging, configurare il backup su spazi esterni oppure importare il tuo sito da un server remoto con un semplice clic.